eccole qua allora il compone femminile azzurro veramente fa 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 sorridere tutte e tre in semifinale felici felicissime altro che avete già il quadro di come sarà la semifinale in mezzo come saranno le semifinali penso io contro la cupron e loro due si scontreranno non credo litigate stasera a tavola facciamo così iniziate iniziate già ok si perfetto ok allora anticipate la sfida cosa facciamo cosa gli fai stasera c'era sempre perso è per cui questa volta vinco io non ce n'è vediamo vediamo domani è un risultato importante anche perché insomma stamattina i quarti sono stati presi per i capelli questo dimostra veramente che ogni gara può essere diversa dall'altra e si può passare dalla perfezione a basta una freccia a sbagliare tutto quindi come dire il risultato entusiasmante si purtroppo sono i pro e contro di questa tipologia di gara ogni fase a sé stante quindi tutto può succedere sempre comunque mi dici insomma qualcosa su loro due vediamo di fare questo 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 giro chi speri di trovare eventualmente nella gara migliore no non spero niente siamo tutte fortissime quindi va bene così al podio primo secondo terzo pensavo dicessi speriamo di vincere tutte e tre loro il podio tutto italiano sarebbe il massimo fate questa promessa davanti al presidente il podio tutto italiano italiano con gratulazioni di cuore a tutte e tre giuseppe sei mandi è semifinale un quarto condotto all'inizio molto bene poi le ultime frecce fatto un po tremare purtroppo sì infatti è stata una partenza ottima sono partito con 3 11 consecutivi praticamente le piazzole diciamo quelle più complicate e quindi diciamo che il gioco era quasi fatto poi mi sono andato a complicare un po le cose con un 8 a un bambi veramente vicino e facile poi mi sono mi sono ripreso con un 11 per poi chiudere con 3 8 tutti e tre da da arbitro però praticamente non c'era neanche un 10 quindi ho detto c'è ho pensato di essere sfortunato e star fuori perché con tre frecci di linea che non toccavano mi spiaceva stare fuori in questo modo invece sono dentro e sono contento sei già con chi sarà la semifinale non ancora perché praticamente come primo punteggio c'è richard kokuret con 80 punti e poi siamo in 3 a 76 punti io bobby e david garcia quindi praticamente bisognerà considerare gli ori e gli undici per la classifica insomma davvero grande equilibrio con il campione del mondo uscente bobby larson sarà una gran semifinale assolutamente grazie in questa grande soddisfazione per l'italia per i risultati di questi quarti davvero positivi c'è anche il primo posto nel compagno di antonio pompeo insomma direi che da ieri stai tirando su livelli altissimi sì è vero sono partito meno poco non molto bene la prima di qualifica poi sono andato in crescendo e ho chiuso bene stamattina ancora primo posto pari punti con altri due atleti e adesso ancora pari punti con del caso in quindi primo posto sono contentissimo vedremo poi domani di continuare si spera nel tirare bene come oggi porta affascinante questo un giorno sei primo un giorno sbaglio una freccia rischi di uscire lo sa bene anche del caso in che il primo giorno ha fatto un 5 21 strepitoso e questa mattina ha rischiato di uscire allo shoot off la certezza che non lo trovi in semifinale e l'augurio è quello magari di ritrovarlo per loro sicuramente mi piacerebbe trovarmi con del caso in a fare una finale sicuramente sarebbe un po un connubio america quindi top diciamo come arciere in questo momento molto forte e italia quindi sarebbe una bella sfida speriamo me lo auguro di riuscire a farcela il percorso di questi quarti bello questa è una location veramente bella che io conosco perché abbiamo già fatto i campionati europei sempre qua quindi per me è familiare così come anche l'anterefield le gare che ho fatto qua quindi è come essere in casa non giocare in casa oltre a essere in italia ma anche in un luogo che si sente un po proprio diciamo un po così no belli tiri belli bel bel percorso ben organizzato non c'è niente a dire e poi ci sono anche le due semifinali a squadre sia per voi uomini che per le ragazze insomma fin qui anche se è meglio non trare bilanci prima della fine un bel cammino sicuramente anche oggi prima di questa qualifica abbiamo fatto le eliminatorie per le squadre siamo passati contro la repubblica cieca e siamo contenti perché andiamo ancora nel parco di badimanna a giocarcela diciamo semifinali per puntare alla finale così come abbiamo vinto tre anni fa qui all'europeo l'oro quindi speriamo di ripetersi nel mondiale grazie 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 fare un quadro generale facciamo questo quadro generale grazie grazie Giorgio Botto la soddisfazione è vedere due squadre quelle azzure maschile e femminile in semifinale e ben 13 arcieri nella giornata conclusiva domani a badimanna 13 su 16 hanno conquistato questo passaggio se abbiamo contato bene insomma è un gran numero sì avete contato almeno come ho contato io non voglio tradire la mia tradizione che è quello che non parla e non dice mai nulla prima della fine dei giochi però sono partiti in 24 più della metà li portiamo in finale avevo anticipato che sapevo che si sarebbero comportati bene si sono comportati bene quindi la previsione generale è mantenuta è un numero veramente oltre ogni previsione vediamo vediamo io posso semplicemente dire che i campionati italiani i campionati del mondo e tutti gli eventi fatti in Italia alimentano sempre delle discussioni sulla regolarità sulla distanza vengono gli atleti sapevano sanno vengono aiutati in realtà loro sono testimoni che abbiamo vissuto questo evento col tifo caloroso dei 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 sardi che hanno aiutato l'allestimento dei campi ma non siamo stati aiutati per niente io ho assolutamente bandito loro ogni tipo di contatto con gli organizzatori proprio perché non volevo che venisse macchiato gli eventuali risultati da questi sospetti i risultati ci sono stati io mi permetto di dire che così è ancora più divertente perché 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 sono stati veramente bravi senza nessun aiuto ecco questo ci tenevo a dirlo a prescindere da come andranno le medaglie e poi c'è da dire che dall'Austria dal mondiale di due anni fa sono arrivati tutti i migliori tutti i campioni in carica da Bobby Larson a tutti coloro che avevano centrato l'oro due anni fa quest'anno c'è anche Dave Cousin che ha riscosso grande curiosità ma alla fine se l'è dovuta sudare anche lui allo shoot off il dato è che ha tirato come Pompeo nel quarto di finale questo però fa soltanto che bene al 3D questo mondiale che per numeri e qualità mi sembra possa posizionarsi veramente come tra i migliori io sono contento che di questa partecipazione e sono contento che nel mondo si parli di Dave Cousin a questo mondiale da responsabile del settore posso solo dire che in Italia nelle altre 8 divisioni, sono 8 divisioni, 8 squadre in Italia ha 7-8 Dave Cousin al loro interno poiché la popolarità, il circuito internazionale non dia la visibilità ai nostri bucci pontrevolesi, Barbaro, Seimandi, Noziglia e va bene, questa è la differenza tra una specialità così seguita al mondo come il compound rispetto all'ombor, rispetto all'arco nudo, agli istintivi però sul valore degli atleti non c'è nessun dubbio Dave Cousin onora gli Stati Uniti esattamente come i nostri 13 ragazzi che non hanno l'Italia nello stesso modo, la qualità, l'impegno e la precisione, visto che si parla di sport di precisione è esattamente la stessa Lasciamo il lago di Baraz, tre giornate anche meteorologicamente davvero stupende percorsi ben allestiti, il tuo giudizio, insomma direi che anche dalle delegazioni abbiamo raccolto molti complimenti e grande soddisfazione Noi conoscevamo già questo posto, vuoi per gli europei, vuoi per gli italiani già organizzati sapevamo che venivamo in un posto bello con l'organizzazione efficiente, capace di questo evento quindi sapevamo di trovare questo, l'abbiamo avuto conferma e l'abbiamo restituito con, spero almeno di aver restituito questo loro impegno con questi risultati, poi vedremo perché le medaglie sono ancora lontane E' ovvio che per poterle vincere questo era da fare, questo abbiamo fatto Allora in bocca al lupo ai nostri 13, alle due squadre e con Giorgio Botto ci ritroviamo domani a quest'ora Sì, mi piace più pensare a 15 perché c'è sempre una sorta di scaramanzia, quindi 13 sono individuali, 2 sono le squadre quindi parlando di 15 anche chi crede alla numerologia e dalla parte della ragione abbiamo 15 persone che possono andare a podio e questo è un bel numero via Marco Pontremolesi e Giacomo Luca Fantozzi dentro alle semifinali di questo mondiale 3D e sarà proprio una semifinale tutta azzurra, un gran bel derby, insomma, capita anche questo Capita anche questo, peccato perché si poteva concorrere a altre medaglie ma sicuramente uno è in finale per loro uno per il terzo posto, vediamo domani cosa succede Soddisfatto, insomma, un bel risultato Un bel soddisfatto perché tre anni fa mi è stato bloccato qui con un colpo della strega mentre saldivo con una freccia, sicché sono molto soddisfatto di questo risultato è stata una cosa molto pesante, cercata, voluta e sono arrivato fino a qui e sono molto contento e soddisfatto Con Fantozzi vi conoscete molto bene, insomma, che semifinale sarà? E con Fantozzi ci conosciamo della vita, della vita è che facciamo gli scontri L'ultimo ho perso io al italiano l'anno scorso, sono arrivato il secondo di primo Vediamo se adesso vinca il migliore, non facciamo pronostici Una bella sfida ma soprattutto per l'Italia un grandissimo risultato 13 azzurri in queste semifinali, insomma, avete fatto qualcosa davvero di incredibile Sì, siamo stati tutti molto uniti e abbiamo fatto il nostro dovere, il nostro dovere di atleti Siamo veramente contenti, tutti, tutta la squadra è contenta Congratulazioni e in bocca al lupo Grazie, crepe Giulia Barbaro, allora, direi che ormai è dall'inizio, dal primo giorno di questo mondiale che stai tirando su livelli altissimi Sei in semifinale, ma sei in semifinale tu come altri 12 azzurri, questo è il dato eclatante 13 azzurri che si giocheranno le medaglie Siamo cresciuti, il numero è notevole, siamo diventati tutti molto bravi Però non sempre così che vince il migliore in questo giochino Un po' di sfortuna, un po' di tensione e crolli Sono crollata anch'io stamattina ma poi mi sono ripresa, bene E' sempre tutto in gioco fino all'ultima freccia, si sa, il gioco è così, è un po' cattivo Non devi mai dare niente per scontato, si sa, è così Il dato è eccezionale ma bisogna resettare, da domani si riparte, però ci sono due squadre in semifinale Quella femminile con te ovviamente dentro, quella maschile e poi in 13 a giocarsi le semifinali Al di là poi delle medaglie, questo comunque è un dato che ci permette di dire che questo mondiale è sicuramente molto positivo per l'Italia Molto, molto positivo, bello, siamo cresciuti tantissimo perché i tiri sono diventati più interessanti Anche tutto, l'organizzazione, tanti errori che si sono fatti negli anni indietro Io non ne ho perso uno, per cui da quando ho iniziato in Francia oggi Devo dire che di strada se ne è fatta tanta Il più bel mondiale? Forse questo Siamo in casa, giochiamo in casa, non possiamo che dare il nostro massimo Tu sei già con chi tiri in semifinale? No, no, perché sono a pari merito con una francese La mia rivale più forte, la spagnola, l'Encarna, oggi è uscita, come vedi La Big, ma sono anch'io una Big, perciò domani vediamo come va In bocca al lupo Creppi Ripartiamo allora da questo dato assolutamente positivo per l'Italia 13 azzurri nelle semifinali, anche per te a livello personale, insomma una bellissima soddisfazione Sì, è stata una bella gara e soprattutto un risultato non aspettatissimo Le mie condizioni non sono ottimali, però mi sto difendendo Mi sto difendendo perché c'è dei concorrenti molto molto forti E adesso in semifinale un derbissimo azzurro con Pontremolesi Eh va bene, ci fa piacere essere in finale, però purtroppo lo scozzo sarà subito fra me e Marco E uno dei due dovrà rinunciare all'oro sicuramente Comunque, bene, bene così Sensazioni positive, sensazioni di questo mondiale, di queste giornate di tiro per te? Ah sicuramente è un bellissimo mondiale, è una bellissima location Un'organizzazione veramente impeccabile e le sensazioni sono soltanto positive Per tutto quello che riguarda il mondiale in se stesso Bocca al lupo Crepi, ciao A domani Buona Francesca Capretta, uno dei tredici azzurri in questo atto finale dei mondiali di Sassano Un atto bellissimo Ma guarda, io sono estremamente soddisfatto perché sono partita senza preparazione Mi sono fatto uno strappo alla spalla al primo giorno Domani mi gioco la semifinale, meglio di così Non oso pensare, è vero che ho ancora il mondiale di due anni fa qui che ho perso per un punto Però non ero assolutamente arrivata pensando di arrivare alla finale Invece sono qui e domani ce la metto tutta Senti, con chi tiri in semifinale lo sai già? Con la campionessa del mondo che mi ha dato un punto due anni fa Subito da togliersi questo gargarozzo Quindi si rischia proprio la medaglia di legno domani perché mi scontro con la migliore in assoluto Stimoli eccezionali però Stimoli eccezionali Cerchiamo di metterli a frutto Bocca al lupo Che non mi sputi Stimoli eccezionali